Prima di iniziare devo portarvi saluti del direttore del presidente dell'Istituto di Storia della Resistenza di Verona che oggi non possono essere presenti e quindi ne facciamo indegnamente le veci io e Alessia che vi ha accolto. E anche Cristina che fa parte del direttivo dell'Istituto. Ringrazio anche voi per essere in presenza, spero che tutto funzioni a dovere. Sapete che questo è il primo incontro di quattro, il secondo domani si svolgerà però in università perché vorrà essere presente ed è nato dalla possibilità di ospitare qui a Verona la bellissima mostra che il nostro relatore di oggi Costantino Di Sante ha preparato, nonché allestito stamattina, insomma è davvero un factotum in questo caso, fa tutto, prepara le mostre, le presenta eccetera. Costantino Di Sante non avrebbe bisogno forse di presentazioni nel senso che pur non essendo strutturato in accademia è un ricercatore molto molto noto. Gravita intorno all'Istituto di Ascoli Piceno di cui è stato anche direttore, adesso mi pare faccio parte del direttivo, ma è anche negli organi scientifici dell'Istituto Parri e è molto attivato in questi anni sia sulle tematiche relative alle deportazioni, l'internamento in Italia, l'internamento anche altrove, non ultima la Libia, non è un caso che abbiamo qui in sala anche gli autori del documentario sul Lager di Bolzano in cui avrete la possibilità di vedere Costantino se vi incappaste nella presentazione di questo video, ma anche appunto di storia del colonialismo, mi pare che tutti i miei lavori siano su questi. Ho dimenticato di live fogli, ma non perderei altro tempo, mi perdonerà il relatore, siamo anche in amicizia, domani faremo una cosa migliore dall'università. Ci cederai subito la parola perché so che la carne è fuoco e canta. Se qualcosa online non funzionasse segnalatelo ai colleghi. Ah, devo ringraziare tantissimo anche i colleghi di Venezia, Chiara Massari, Di Belluno e Enrico Bacchetti che mi stanno dando una mano nella gestione del rapporto a distanza. Grazie cari. Basta? Grazie, grazie Nadia, grazie all'Istituto. Io ringrazio sia chi è live e naturalmente coloro che sono presenti qui. Spero che vada tutto bene, è leggermente complessa la situazione, ma io sono felicissimo, in particolare anche, che la proposta del corso abbia riscosso così tanto successo. La lezione, diciamo, l'incontro di oggi pomeriggio è appunto per una storia del colonialismo italiano, perché è evidente che il tema rimane un tema di grande rimosso, su questo penso non c'è nessun dubbio, e i nostri 75 anni di colonialismo, diciamo, portando più o meno a una colonologia strettamente legata all'inizio, diciamo, con l'occupazione di Massawa e l'inizio della primogenita colonia in Eritrea, fino alla conclusione del famoso, diciamo, AFIS in Somalia, cioè l'amministrazione fiduciaria di quelle terre nel 1960. Quindi 75 anni non sono pochi, no? Se si riflettiamo. Eppure c'è stata veramente una rimozione, anche se andiamo a vedere, ne discutevo anche con alcuni insegnanti questa mattina, anche sui manuali di storia spesso, diciamo, il tema è ridotto a poche pagine. E quindi la domanda perché non se ne è parlato, perché bene o male adesso, per fortuna, dopo gli anni 90, grossomodo, abbiamo una maggiore attenzione su alcuni momenti della nostra storia coloniale. E quindi qualcosa si sta muovendo negli ultimi anni, che ho avuto anche a movimenti d'oltreoceano, sul rimuovere le statue, abbattere le statue degli ex colonialisti, oppure c'è stato tutto un discorso sulla toponomazia, quello che si chiama poi post-colonial più che altro, però sul colonial forse c'è ancora molto da fare. Siano i storici, le ricerche naturalmente non sono così ampie a livello storiografico, ripeto, ci sono tanti colleghi che hanno prodotto negli ultimi anni, non abbiamo per esempio una cattedra di storia del colonialismo, per citare un esempio molto urgente. Inoltre, ecco, anche i mezzi di comunicazione hanno parlato della storia, che parlano spesso in alcune occasioni della storia del nostro colonialismo, solo se ci sono delle polemiche, ricorderete la polemica, non so, tra Montanelli e Angelo del Bocca, che è stato forse un punto di riferimento per chiunque voglia studiare la storia del nostro colonialismo, che è scomparso circa un anno fa. E sulle questioni legate all'uso dei gas, ecco, spesso anche questa contrapposizione, mito del bravo italiano dall'altra parte o tutti i criminali. Ma sappiamo la storia è molto più complessa e quando magari c'è solo la polemica, si rischia poi di non entrare nel merito delle varie questioni. Quindi, diciamo, legata un po' alla polemica e quindi questo appunto non aiuta ad entrare poi nel discorso anche collettivo. Stesso discorso, se andiamo a vedere, dicevamo, la topo masca, molti di noi, quando arriva una stazione Termini, piazzare del Cinquecento, no? E si chiede anche perché Cinquecento è la sconfitta di Dogali del 1887, che viene utilizzata in chiave, no? Anche lì, di esaltazione, questi Cinquecento, che poi anche lì il numero ancora non è molto chiaro. Però ecco, molti non lo sanno, non si rendono conto, anche perché, come tante vie, anche legate a personaggi militari, ma anche autorità civili. Pensiamo, per dirlo ultimo, il masoleo dedicato a Rodolfo Graziani da File, ma per da... Ecco, siamo sempre un po' nell'ambito, come dicevamo, un po' della polemica. Va benissimo, però poi non c'è nulla di strutturato. Stesso discorso, ecco, le poche pagine, se andiamo a vedere anche sui siti internet, non sono così tanti anche i siti specializzati. Stanno un po' nascendo, ma rispetto ad altri periodi storici, sinceramente c'è anche lì una carenza, no? E quindi i siti dedicati stanno iniziando, ma con, come dire, con molta difficoltà. E stesso discorso, se andiamo a vedere alcuni motivi di questa rimozione, io penso che anche vent'anni poi, se andiamo a vedere vent'anni, chiamiamo di anticolonialismo con la retorica fascista del ventennio, fatto sì che l'intera generazione, no? Che poi quella del dopoguerra, che doveva raccontare, che doveva... non ha fatto i conti, non ha avuto l'occasione nemmeno di fare i conti per il fatto che l'Italia, come sapete, non ha avuto una periodo della decolonizzazione. Le colonie non le perdiamo, diciamo, della guerra, a parte l'amministrazione fiduciaria della Somalia, quindi un dibattito rispetto a ciò che è accaduto magari in Francia, poi la questione algevina, o pensiamo all'India, al Regno Unito con l'indipendenza dell'India. E quindi è chiaro che questo ha fatto sì che nemmeno ci fosse, ecco, un richiamo cogente alle questioni nell'immediato secondo della guerra. Se andiamo a vedere anche a chi è stata affidata la storia, diciamo, anche lì ufficiale, l'Italia in Africa, questa collana che forse qualcuno di voi ha visto nelle biblioteche oppure, meno male, circola qualche testo anche su internet, in vari siti specializzati di libri, diciamo, rari, anche lì chi fu indicato a costruire questa storia del colonialismo italiano, furono funzionari coloniali. Noi eravamo anche là, tutto un dibattito più o meno, diciamo, anche qui, del nostro trattato di pace e via dicendo, quindi non a caso si chiama l'Italia in Africa, con una visione molto edulcorata, cioè quello che noi poi abbiamo investito nelle colonie più che quello che abbiamo preso. Questo è uno stereotipo, no? Abbiamo costruito stasi, chiese, movimenti e via dicendo, l'ultimo libro anche di Filippi, no? Non si è capitato di leggerlo, proprio ricorda che questo stereotipo, come tutti gli stereotipi, ha anche una base, diciamo, di verità. Effettivamente l'Italia ha questa caratteristica, il nostro colonialismo, è stato un colonialismo che effettivamente poi andrebbero studiati alcuni meccanismi, anche qui siamo a ritardo, economici, investimenti fatti, però sicuramente è stato tra i più diseconomici, dall'altra è stato un colonialismo, anche se è poca cosa, se andiamo a vedere gli altri, diciamo, colonialisti, gli altri colonialisti, gli altri imperi coloniali, i numeri di coloro che sono andati poi fisicamente a occupare e a desiderare la terra d'altri, anche se è significativo, quando dico spesso agli studenti, era ma noi andare a cercare miglior fortuna in Africa, no? perché il nostro è stato, come si è detto, colonialismo demografico, esportare braccio, soprattutto prendere le terre migliori. Anche qui non è semplice, perché se andiamo a vedere quelle colonie, non a caso noi siamo, poi alla fine, diciamo, l'Università d'Italia arriva ben ultimo, no? Per fare questa più grande Italia e prendiamo quello che rimane. e sicuramente l'Entea non offre grandissimi, diciamo, sbocchi anche da un punto di vista economico, stesso discorso, valere per la Somalia, la Libia, come sapete, ci vorranno diversi anni per conquistarla tutta, pacificarla, come si diceva all'epoca, in questa retorica, dall'11 fino al 31, ma di quello poi domani parleremo in maniera specifica e anche alla mostra. E pensiamo all'Etiopia, siamo rimasti lì per poco tempo, anche se, pensiamo, questa ultima guerra comuniale fatta da una, tra virgolette, potenza europea è più di 500.000 uomini, non sono pochi, non sono pochi, anche in questo caso, anche lì, il discorso di vendicare Adua, il discorso anche di cercare di sconfiggere più presto, diciamo, l'ultima poi nazione libera che faceva parte delle società della nazione, come era lo stato etipico. Però è vero che poi alla fine, se andiamo a vedere anche i numeri, sicuramente è poca cosa rispetto agli altri imperi, anche questo conta, se andiamo a sorpresare le questioni. Quindi, diciamo, alla fine pochi italiani effettivamente vanno in quelle colonie, sia per i motivi che dicevamo prima, anzi, molti magari preferivano emigrare le colonie altuido, che le occasioni di lavoro sono sicuramente migliori, non a caso, Balbo si inventano, queste navi che partivano per portare i coloni nel 38, ogni anno, poi inizia la seconda guerra mondiale, in occasione della marcia su Roma, bisognava andare a colonizzare, appunto le terre dell'uomo impero. Altra questione, secondo me, che non è secondaria, noi sappiamo anche poco, o almeno iniziano a venire fuori degli studi, sulla società coloniale che si crea tra gli italiani e i colonizzati. Sappiamo alcuni aspetti, però ecco, non è che sia così anche studiato, e quindi anche nelle memorie pubbliche questo è venuto meno, anche nelle colonize. Pensiamo anche ai romanzi storici, ultimamente stanno uscendo qualcuno, ma se pensiamo che il tempo di uccidere di Brian, poi vince anche il pleno strega, eccetera, però è rimasto per tanti anni, forse uno dei pochi che fa i conti anche per il nostro colonialismo. Adesso, soprattutto anche quelli della seconda generazione, penso da Scego, ad altri che stanno facendo i conti con questa visione che è anche lì le memorie degli altri. Io, per esempio, quando vedrete la mostra, non è stato facile, ma l'idea di fare una mostra con una visione eurocentrica, mi, diciamo, verabilitiva anche perché stavo sempre contro, no, una visione del colonizzatore. Cosa pensano i colonizzati? E lì l'ho organizzata insieme a questo massimo storico, poi libido, che è morto anche lui un paio d'anni fa, a Sassuri, e non è stato facile, però se andate a vedere la mostra, è in arabo-italiano, anche lì un discorso di reciprocità, almeno ci ho provato, poi vedrete domani i risultati. Andiamo a vedere l'altra questione di questa realtà complessa, che secondo me poi è anche al centro di questo rapporto tra colonizzati e colonizzatori. uno, forse, dei crimini maggiori che l'Italia ha perpetrato nelle sue colonie è anche il fatto di limitare la possibilità degli indigeni di studiare. Per molti, fino alla quarta elementare, i laureati si contano sulle indigini di una mano. Questo perché? Perché appunto noi dovevamo esportare braccia alla popolazione locale doveva naturalmente servire come mano d'opera quasi non dico schiavele, ma sottomessa. quindi non potevano andare oltre a un certo livello di studi. E se andiamo a vedere le nostre colonie, soprattutto quelle africane, su tutti i paesi semifalliti oppure in condizioni abbastanza disastrate, pensiamo alla Somalia, pensiamo adesso ultimamente anche alla Libia, al di là del petrolio, dopo, no? Il via dicembre, dagli anni 50, però prima era anche messa, come sappiamo, l'Eritrea stesso discorso, l'Etiopia con alti e bassi, ultimamente anche la situazione non è dei dei migliori. Quindi, e pensiamo anche qui, se andiamo a verificare, sì, diciamo l'Albania, il protettorato, anche là tutto il dibattito, se è stata effettivamente una colonia a tutti gli effetti o un altro aspetto, se la inseriamo dentro il contesto delle nostre colonie. Anche quello è un paese in quale noi, anche se per poco, non abbiamo dato grandi possibilità a creare dei quadri. Molto bene la situazione in Libia, anche lì, l'apparato statale o di persone in grado di reggere una realtà così complessa dove si fa i conti con le cabine, a tutt'ora, no? Sono poi i capi tribù, le varie famiglie, e su questo c'è molto ancora, c'è ancora molto da fare. L'altro tema che è emesso anche grazie purtroppo alla statua di Montanelli o le varie polemiche e quella che si chiama un po' diciamo viene in mente adesso l'emergenza erotica però non è proprio così il termine utilizzato e meno male l'erotismo emergenziale come lo chiamavano anche nelle cronache dell'epoca chi stava in colonia perché noi mandiamo per più del 90% sono maschi che vanno a colonizzare i coloni militari e quindi questo è l'altro grande tema del razzismo che noi mettiamo in atto nei confronti delle popolazioni locali. Ricordiamo tutte le leggi razziali del 38 pochissimo emanazioni appunto delle leggi razziste contro le popolazioni locali del 37 soprattutto sul grande tema del mediciato Montanelli con la sua giovane madama e lì la polemica poi ha riacceso un piccolo dibattito però ripeto molto sporadico non siamo riusciti a contestualizzare bene e anche lì di tutta quella retorica poi una canzone che fu pure appunto per questo motivo censurata dallo stesso Mussolini faccetta nera dove nascevano dei figli medici che inquinavano il sangue anche su questo ci sarebbe molto da ricordare come il razzismo coloniale anticipa poi il razzismo antisemita su alcuni aspetti e dicevamo delle memorie degli altri poi anche qui abbiamo poco qualcosa sta emergendo proprio perché mancava una società strutturata anche culturalmente e se pensiamo cosa abbiamo perso nel corso anche degli anni successivi a noi dicevo tanti anni di colonizzazione pensiamo ad esempio alla Libia alcuni termini alcune parole che sono rimaste pensiamo anche agli aspetti se volete più che sono presenti anche non solo nell'immaginare nello stereotipo l'architettura coloniale italiana la valorizzazione delle colonie attraverso anche un certo tipo di turismo che inizia a prendere piede soprattutto in Libia per esempio con Ballo e anche alcuni architetti italiani fanno delle cose straordinarie molti giovani perché qui non trovano spazio quello è cambiato poco il paese ma lì possono sperimentare delle cose incredibili anche quello sono tracce importanti che però si stanno in parte perdendo se pensiamo oggi non anche le parole italiane che rimangono le nostre colonie ma l'altro modo in cui ci guardano per esempio il calcio io ho assistito anche lì a dei scontri tra interisti milanisti a Peram a Tripoli nei due club che si scontravano di libici che tifano naturalmente per le varie squadre sono diversi la stessa di Sapeba c'è il club Juventus le squadre più importanti e quello è rimasto per esempio quando l'Italia ha vinto i mondiali contro la Francia Francia Tunisia Italia Libia hanno festeggiato per una settimana è andato lì alcuni giorni dopo e ancora stavano festeggiando noi magari siamo stati quasi leggermente più soldi per dire anche come poi queste memorie si sono si sono non sono così complesse vanno riviste nonostante i crimini che naturalmente ricordano pensiamo anche a un altro luogo secondo me il quale adesso tanti vanno anche in vacanza che sono le isole del Dodecanneso che noi prendiamo nel 1912 Rodi Cos dove per esempio ogni tanto riemerge tutta la questione per esempio degli ebrei deportati da polterne a cui prendono erano cittadini italiani poi col 38 perdono cittadinanza vengono consegnati o per questi diciamo durante la Repubblica Sociale dai tefischi li deportano e li deportano li deportano quasi tutti più di 1800 si ne salvano pochissimi circa meno di 200 178 se non vado se non vado aderriato e Sam Modiano per esempio molti voi perché lo conoscono è testimone di quello che è successo su questi nostri possedimento d'oltremare poi verrà chiamato il Dodecanneso anche lì Colonia Bianca possedimento d'oltremare l'Albania questo protettorato e avevamo anche un altro posto che viene spesso dimenticato questo che era una concessione coloniale che è Tian Xin in Cina se ne è dato all'inizio del 900 noi partecipiamo in modo nostro nella guerra contro i boxer e ci danno questa concessione che poi con anche Ciano cerca di valorizzare a suo modo e il commercio anche con con la Cina voglio ricordare migrati che arrivano e vendono le stoffe o le cravate che poi quando inizia la seconda guerra mondiale interniamo perché noi alleati del Giappone loro riesce fanno parte della Cina e quindi li interniamo durante il periodo della seconda guerra mondiale come subiti nemici una parte di loro poi sono usciti ultimamente anche dei lavori su questo molto interessanti mi sono in parte occupato anch'io perché uno dei posti è vicino alle mie terre sono abruzzesi e i frati di San Gabriele appunto una parte di loro per convertirli dal confucianessimo al cattolicesimo e ci riescono pure per alcuni perché naturalmente in quella situazione almeno in maniera più limitosa e anche su quello diciamo non è che ricordiamo molto anche no a livello di aspetti eppure anche quello fino al 1943 dall'inizio di più di 40 anni di questa concessione di Sainz con lo scambio anche commerciale vedete c'è tanto da lavorare anche su questi rapporti chiamiamoli importanti se torniamo anche alla questione ebraica pensiamo agli ebre libici anche ibrei anglo-libici con l'applicazione della legge razziale anche con le terre con gli anglo-libici che deportiamo in Italia per loro fortuna hanno il doppio passaporto vanno a finire a Bergen-Belsen perché i tedeschi li vogliono scambiare con i prigionieri tedeschi in mani inghese e loro si salvano però anche lì costruiamo le regole mani un campo di giado più famoso ma anche altri campi di lavoro e non solo anche di transito per gli ebrei e gli altri per esempio quelli di origine francofono li consegniamo a Bici in Tunisia e da lì tutto il percorso fino ad Auschwitz per dire come poi andiamo ad allargare il panorama anche delle nostre implicazioni in quei territori l'altro tema l'altro tema è per esempio su cui si sono interrogati da Teodoro Sala Enzo Collotti se la nostra occupazione dei Balcani in particolare della Galmazia parte della Slovenia eccetera quelle zone sia stata oppure no una guerra di tipo coloniale dibattito in parte ancora aperto sia per le modalità sia perché ritroviamo alcuni aspetti particolari sulla repressione che ritroviamo anche nelle colonie che ha occupato in particolare penso alla Libia e anche all'Etiopia con rappresaie polizia coloniale da una parte polizia di anti-guerriga sui territori dei Balcani campi di concentramento deportazione alla popolazione civile e via dicendo e su quello collaborazionismo da una parte con i capi di Puda dall'altra parte anche con i cetimici o con delle popolazioni che più o meno si sottomettevano tra virgolette e altre due questioni pensiamo anche qua al rapporto che ritorna oggi anche quando vediamo queste cose in particolare per l'immigrazione attuale pensiamo a quello che è successo il 3 ottobre del 2013 tra l'altro anniversario naturalmente dell'occupazione italiana inizio le operazioni contro l'Etiopia il famoso neofragio nel 78esimo anniversario dell'aggressione all'Etiopia con incidenza drammatica e più di 366 morti o meno quelli che ricordiamo quel neofragio naturalmente vicino l'Ampelusa di quei migranti che arrivavano in gran parte anche dal conno d'Africa ex diciamo territorio famoso africo orientale ambientale italiana e poi gli interessi economici oggi si parla tanto di questioni legate all'energia e noi come sapete bene la Libia era un partner importante io ero lì anche quando è stato firmato il famoso trattato di amicizia che voleva dire in particolare per l'Eni che è una nostra sicuramente mano lunga del ministero degli esperi però voleva dire effettivamente avere tanti anni di sfruttamento di giacimenti che eravamo ben posizionati rispetto alle altre grandi compagnie petrolifere e anche di gas naturalmente e paghiamo anche questo adesso con quello che è successo per difendere Gheddafi come abbiamo destabilizzato anche quel paese e oggi naturalmente è un paese anche falchito con una guerra civile più continua in maniera strisciante però quando si parla di quei territori ricordiamo appunto più per il petrolio che per il gas ma anche là l'elemento locale diciamo quasi non esiste ed è difficile anche quando iniziata nel 2011 nel frattempo 2011 iniziata anche lì la famosa Emaverarva tra virgolette e tanti giornalisti scrivevano delle cose che non stavano tutto di vista storico non c'era né terra perché non c'era una conoscenza anche di base di come era complessa con le varie appunto tribù e capi tribù che controllano il territorio e cosa è rimasta anche lì la Libia però Tripolitania Cirenaica Fezzan la Sirtica sono veramente realtà totalmente diverse con anche componenti etiche culturali e religiose molto ma molto frammentate quindi anche su questa complessità o una non conoscenza o se volete anche la conoscenza per commentare quello che abbiamo visto naturalmente è arrivato poco anche all'opinione all'opinione pubblica dicevamo poi degli stereotipi degli stereotipi che sono rimasti beh io per esempio quando ho iniziato ad occuparmi delle questioni legate alla Libia al di là del mio percorso di studio un po' triste sui campi di concentramento italiani e via dicendo era legato anche che nel mio manuale di storia delle medie in età degli anni 80 questi stereotipi erano ben presenti cioè il colonie di un'area è stato differente rispetto agli altri che abbiamo costruito abbiamo portato la civiltà abbiamo eccetera e certo ho iniziato ad avere una certa età però parliamo di 30-40 anni fa e mi dicevano alcuni in testa che sia cambiato molto anche se andiamo a vedere il nostro dibattito pubblico rimane quindi decolonizzare queste memorie non è facile e mi rendo conto che anche per una storia appunto del colonialismo italiano bisogna sicuramente utilizzare varie strategie dicevamo anche oggi con ragazzi con attività e per esempio una cosa che io suggerisco ma poi sicuramente ne parlerete negli altri incontri più laboratoriali è tentare anche di fare non una storia spezzettata del nostro colonialismo ma che parte appunto almeno dico dai un battino che compra una sabre che diciamo almeno il 1885 e poi si arriva anche fino all'oggi cioè il neocolonialismo potrebbe essere una strategia per non perdere il filo altrimenti poi dopo varie storie ritorna cioè dopo Agua forse la guerra di Libia che è fatto vari anni poi può darsi che ritorna qualcosa sull'Etiopia nei manuali ma parliamo sempre diciamo frammenti quindi forse un filo come dire rosso che arriva e copre anche le questioni di quella che oggi si chiama appunto post-colonial potrebbe essere secondo me importante e interessante però dicevamo qui utilizzerò un po' di immagini per alleggerire la mia la mia lezione e il colonialismo appunto va affrontato anche con una storia coloniale che deve essere per alcuni aspetti ancora in parte studiata e appunto disseminata e non sto qui a dirvi questi schemi magari trovate anche il perché le modalità questo può essere una strategia con tutte le questioni questo schema poi naturalmente il powerpoint chi volesse lo metto a disposizione e dicevamo anche qui cosa rappresentato anche per le altre per i paesi che abbiamo occupato parlo anche del colonialismo europeo in questo caso anche qui si dovrebbe io sono anche per una comparazione quando si dice anche il colonialismo italiano è stato differente diverso dagli altri colonialismi anche lì c'è una parte sicuramente di verità chi più ha usato più o meno violenza ma la violenza c'è stata e pensiamo anche oggi quando ritornano le immagini della morte della regina d'Inghilterra sappiamo bene che io ho guardato alcuni giornali sia inglesi che americani degli accenni su quello che è successo nelle colonie è emerso e da noi invece c'è stata una retorica forse un po' eccessiva diciamo al di là di come uno la può pensare sia sulla regina e sia sul colonialismo inglese però anche in questo caso denota un certo provincialissimo vi assicuro se prendete alcuni giornali un minimo di dibattito c'è stato da noi è stato quasi un trionfo assoluto del ruolo è chiaro che poi se andiamo a verificare anche questo è l'altro grande metodo che forse si può utilizzare ma insegnanti forse dico delle cose scontate perché mi è capitato anche grazie alla mostra per esempio di seguire dei ragazzi che avevo formato e avevano fatto loro da guida anche a Milano per esempio ai loro compagni e ai gruppi che poi hanno fatto delle famose tesine multidisciplinarie non so adesso magari ogni volta cambia tutto adesso non ci sono più comunque sia all'epoca c'erano per esempio c'è la geografia c'è l'economia c'è la storia c'è la letteratura c'è appunto la chimica il petro cioè quindi volendo e in particolare c'è anche una storia delle politiche internazionali a partire dal modo nel quale noi abbiamo non dico noi occidentali il famoso congresso di Berlino pura a cavallo tra il 1884 il 1885 i vari imperi si dividono in particolare l'Africa e non a caso tirando delle linee la Libia questo scatolone di sabbia come veniva poi definito all'epoca che ancora era sotto l'impero ottomano è chiaro che se andiamo a vedere anche gli altri paesi con i quali diciamo gli europei hanno sottomesso vedete bene che alcuni confini non tenevano conto assolutamente delle condizioni reali nei territori e qui grandi imperi coloniali dal 1884 a 1885 inizia questa grande spartizione e qui dicevamo dell'amnesia non abbiamo già parlato questa vescivolata quindi poi ne riparleremo e poi quando andiamo ad analizzare il nostro colonialismo io di solito cerco di dividerlo in queste tre grandi fasi ho tagliato con l'accetta ripeto la storia è molto più complessa però ecco vedremo anche le differenze l'epoca liberale giolitti in particolare per l'impresa l'impresa libica e poi naturalmente l'epoca fascista e l'impero anche se poi vediamo perché ho scritto proprio un saggio su di didattica l'istituto di Mantua proprio sull'imperialismo italiano perché è un imperialismo che nasce da lontano con desiderio una più grande Italia ma con una logica imperiale sentite? no non si vedono le scritte per niente sono scurissime come vedi qua vai avanti le leggi forse spegnendo la luce tanto una vediamo tutta si spegnono tutte ancora ma è scuro e dicevo è troppo scuro? no va bene e scusate noi abbiamo dato a predis a Crispi l'età gioliziana elettrico mercista all'impero se volete c'era poi l'amministrazione fiduciare della Somalia ma la teniamo per il momento fuori poi e poi ecco anche le caratteristiche se andiamo a vedere all'interno questi tre grandi blocchi ripeto poco l'accetta mi scuserete ma per sintetizzare anche per capire le differenze quando l'Italia parte anche qui cosa si sa cosa sanno gli italiani dell'Africa tuttissimo anche gli europei chi è che porta anche qua informazioni e chieda i famosi poi esploratori i missionari che vanno in Africa anche con l'intenzione appunto di convertire di diffondere il cattolicesimo il cristianesimo e la fondazione della società geografica italiana 1867 è un punto importante per quanto riguarda anche l'idea di un'espansione appunto territoriale e il desiderio di una più grande Italia come dicevamo e passaggio fondamentale anche Suez ecco qui quando teniamo conto del nostro tra virgolette colonialismo barra imperialismo dobbiamo tener conto anche dei rapporti internazionali e anche di quello che sono i commerci dell'epoca sicuramente il canale Suez apre verso il corno d'Africa e il modo con il quale andiamo verso quei territori e qui quando ci sarà soprattutto successivamente la spartizione al congresso di Berlino ricordiamoci l'avvicinamento di Italia all'imperio centrale avviene anche qui con la crisi diplomatica con la Francia sulla Tunisia cioè più che la Libia Italia aspira alla Tunisia quindi le questioni di relazioni internazionali per comprendere il nostro colonialismo sono anche qui fondamentali alcune operazioni tra virgolette diciamo militari sono state anche tra virgolette possibile perché gli altri imperi hanno lasciato fare e sulla Tunisia c'è una crisi con la Francia dicevamo perché lì ci sono una colonna italiana importante dal punto di vista della presenza diciamo di italiani quindi si aspirava alla Tunisia invece andiamo a finire poi con la Libia perché la Francia naturalmente occuperà la Tunisia e quindi l'Italia si sposta verso gli imperi centrali anche qua la storia del colonialismo determina anche degli squilibri anche a livello a livello di scelta e di politica internazionale pensiamo anche secondo alcuni diciamo una tesi non per tutto peregrina 1911 la guerra di Libia è quella che si è ancora di più l'impero ottomano ed è una delle micce della grande guerra perché diciamo a catena inizia tutto quello che sappiamo nei Balcani e via dicendo e appunto 1882 con l'acquisto degli investimenti privati e poi l'occupazione di Massawa anche qua grazie agli inglesi che ci danno l'opportunità di occupare quel territorio e iniziare a fondare la cosiddetta poi primogenita ecco qua Colonia che è l'Eritrea così lontana e anche qui quando pensiamo all'Eritrea punto di vista geografico occupiamo Massawa però penetrare verso tutto il territorio dell'Eritrea ci vorrà del tempo qua porti scali e quello dicevo Suez sicuramente sarà un passaggio fondamentale e se andiamo a vedere quello che accade poi nei territori le due grandi sconfitte di un'impero diciamo un tentativo di un'impero coloniale europeo pensiamo appunto ai famosi 500 26 gennaio del 1887 l'episodio di Dogali e poi più avanti se andiamo a vedere quello che accade ad Agua ad Agli quindi anche qua come lo possiamo definire questo periodo particolare del colonialismo del colonialismo liberale chiamiamolo così e sicuramente c'è del patriottismo risorgimentale di questa più grande Italia che si trasforma sempre di più un nazionalismo imperialista dicevamo Agua sicuramente nell'immaginario collettivo dell'epoca pesera molto cioè la sconfitta del primo marzo del 1896 ci saranno anche altri scontri in cui non saremmo ricacciati fuori particolare dagli etipi e questo costa molto anche in quest'idea di una più grande Italia immaginiamoci che fino al 1911 nessuno tenterà più lo stesso Crispi perderà la presidenza del Consiglio e quindi questo impertentativo di imperialismo di stampo quasi disorgimentale verrà naturalmente eliminato ecco Agua è sicuramente nella memoria dell'epoca anche il Negus Menelik che viene se andiamo a vedere altro elemento le immagini la propaganda cui viene dipinto Menelik sembra un mostro che mangia naturalmente uomini quasi in alcune etnografie dell'epoca se andiamo a vedere anche il modo con il quale sia la sconfitta di Dogli che Agua viene rovesciata sull'eroismo nella propaganda italiana vedete queste immagini circondate da migliaia di soldati in parte sarà stato anche così però la sconfitta di un esercito bianco così dura sicuramente pesa molto non solo nel mio ginaglio collettivo ma anche quello che è successo dopo per quanto riguarda la prima colonia 1890 è sicuramente l'altro tema importante a livello cronologico in cui viene eretta semplicemente uno scalo commerciale un luogo di penetrazione è ufficialmente la prima colonia appunto l'Eltrea ora il colonialismo crispino questo che qui ho sintetizzato in particolare c'è un accentuato militarismo che torna in maniera poco inderante dopo l'unità d'Italia parliamo di uno stato più di giovane anche qui fin dall'inizio perché cerchiamo delle terre e l'espansione deve servire anche per mandare delle braccia in esubero non farle migrare questa è un'idea che parte già nel periodo liberale tutti d'accordo la controparte che ci sono in questo caso i socialisti anarchici anche qualche cattolico che parla di come bene o male questa militarizzazione questa abidità verso le terre e altre sia nefasta perché avevamo già tanti problemi nel sud Italia perché andarne a cercare oltre e uno dei discorsi che io ho messo di Andrea Costa che ricorda come queste guerre coloniali poi costano soprattutto il gioco di parole alla povera gente che viene mandata lì di italiani che vengono mandati a combattere su quei territori quindi studiare anche il fatto che diciamo questa propria la pensa sì ma c'è anche per fortuna chi non la pensa allo stesso modo quindi un dibattito seppur minimo lo troviamo di solito la Somalia sulle cronache l'abbiamo un po' sentita di più per le questioni legate anche al fatto che è stata una nostra amministrazione fiduciaria nel dopoguerra dal 1950 fino al 1960 e per tutta una serie di rapporti che abbiamo continuato ad avere fino alla famosa missione Restorop ridare speranza quando il paese è imploso che con Nordafrica è un luogo strategico soprattutto per i commerci marittimi e la Somalia dicevamo era sicuramente qui appunto un luogo non solo di scambi commerciali lungo la costa ma all'interno effettivamente semi inesplorato già all'epoca e quando si creerà appunto questo primo interesse geopolitico ed economico più per la Somalia si pensa di utilizzarla quasi come un accerchiamento all'Etiopia perché l'Etiopia è vista come il territorio ricco da cui ambire ricordato abbiamo ricordato appunto in particolare la sconfitta la sconfitta la sconfitta di Agua e nel 1905 viene creato questo commissariato italiano della Somalia settentrionale anche lì appunto vista geografico dovremmo avere delle cartine un po' più specifiche perché i territori completamente non li controlliamo mai la Somalia la stessa Etiopia la Libia verrà pacificata ma alcune zone rimarranno anche sempre più o meno ostili particolare all'interno del grande deserto del Sahara Libico per non parlare dell'Etiopia così vale anche l'entroterra Somolo dove l'interesse magari anche strategico era minoritario e fin quando ecco diventa una colonia da punto di vista anche sotto l'aspetto statale nel 1908 e qui ripeto la Somalia è anche un fallimento ancora di più rispetto all'Eritrea da punto di vista economico effettivamente effettivamente non ci sarà tutto questo grande possibilità anche dell'idea di mandare grandi diciamo compagnie private dicendo qualcuno ci va ma pochissimo rispetto all'idea che la propaganda si era fatta di questi territori dell'occupazione della Libia e qui ne parleremo magari domani in maniera più specifica mi preme dire che da questa cartina lo vedete tipo l'Italia Fezzano e Cirenaica infatti se andate a vedere le coloniche dell'epoca non è che si dichiara si dichiara guerra diciamo l'impero ottomano e la Turchia però in quel momento anche tutta la questione legata agli giovani turchi è un impero grande malato dell'Europa tutta una serie di situazioni che conosciamo però lo stesso impero ottomano controlla le zone costiere la zona settentrionale all'interno è lasciato quasi in maniera così alle varie cabine e vari commerci all'interno di quel deserto del Sara di cui dicevamo conosciamo pochissimo anzi la propaganda dell'epoca dice bisogna andare in Libia perché lì è pieno di uliveti e qualcuno dice guardate avete scambiato le palme per uliveti cioè effettivamente il deserto non è questa grande ricchezza un paese enorme anche da da gestire non a caso ripeto gli ottomani controllano soprattutto la costa però era rimasta come dire ancora sbombra sapete nel 1911 ma domani ne parleremo in maniera in maniera più specifica e la guerra italo-turca appunto crea un altro una grande questione che è quella che vi accennavo poi con l'occupazione del Dodecandiso Rodi in particolare sia a punto di vista strategico Dodecandiso che dove essere un'occupazione temporanea poi diventerà definitiva come dicevamo e diventerà questo possedimento poi dell'oltremare stante molto più vicino delle altre già lì si usa questa parola dell'oltremare e anche di qualcosa di difficile da tenere due cose velocissime anche la guerra la guerra la guerra italo-turca l'impresa di Libia è vero che avrà un grande consenso particolare anche grazie alla chiesa cattolica che bene dice un po' questa impresa solo alcuni si oppongono anche qua una parte dei socialisti in particolare Turati ma qui vediamo forse l'immagine che più sarà utilizzata con l'impresa di Libia già prima in parte qualcuno leacheggiava i nazionalisti fin dall'inizio del novecento l'idea che si ritorna ai passi dell'impero di Roma il richiamo all'impero romano è una grande diciamo un grande stimolo per una più grande Italia e vedete cosa accade questa è forse una delle immagini di questa cartolina l'Italia che brandisce la spada dell'antica Roma questo marinario italiano che sbarca sulle coste libiche con la bandiera italiana in stemma di Savoia e raccoglie il gladio del soldato romano lo scheletro del soldato romano è come dire quasi un passato e vedete sotto c'è scritto combattenti in tripolitania anche questo è un aspetto importante fino a si parla di tripolitania cilenaica anche nelle cronache poi quando sarà mumificata si parlerà sempre di più diciamo di un governatorato unico e se andiamo a vedere anche il modo con il quale ho sfocata questa immagine la guerra di Libia viene mediatizzata e portata alle cronache se ne parla tantissimo ci saranno anche dei giochi da tavola che ti fanno vedere come l'abbiamo occupata ci sono cartoline anche qua fantasticare questa colonia che la quarta sponda non è così lontana e quindi sarà sicuramente un luogo da economizzare ma dicevo poi domani l'approfondiremo e qui vediamo quando torniamo anche di queste imprese delle voci seppur isolate o limitate penso a Salvemini per citare un altro personaggio importante ma lo stesso Enaudi dal punto di vista economico e pensiamo a Turati appunto che ci ricorda in questo suo intervento alla Camera di Tratti del 23 febbraio del 1912 l'idea anche di portare critica l'idea che noi andavamo lì a civilizzare altri popoli ecco la missione civilizzatrice insieme a questione imperiale fin dall'inizio soprattutto la seconda è presente nella nella ritorica del nostro colonialismo e non a caso Lenin lo chiamerà un imperialismo straccione proprio per le modalità con le quali noi siamo ridotti a prendere quello che le altre potenze coloniali hanno hanno lasciato e il modo con il quale dovevamo più o meno depredare poi la Turchia c'è un sedimento naturalmente turco e da quest'idea appunto del modo con il quale noi vogliamo utilizzare questa questo territorio dimenticandoci che noi eravamo un popolo che si era come dire liberato dal gioco austriaco e andavamo invece a mettere sotto gioco altri popoli ecco e altro passaggio fondamentale ciò che accade a cavallo della della prima guerra mondiale e qui torniamo alle questioni di politica internazionale come sapete l'Italia vince la prima guerra mondiale per esempio però in Libia la resistenza libica ci sta gettando in mare anzi perché le truppe sono chiamate a combattere su altri fronti su queste zone diciamo lasciamo sguarniti gran parte del fermitorio anche lì non l'abbiamo mai conquistato tutto poi domani vedremo solo diciamo la zona costiera la parte del Fezzan la parte della Cirenaica non è stata toccata la parte diciamo centro-meridionale della Cirenaica al confine con l'Egitto naturalmente noi arriviamo a controllarla per i motivi che dicevamo anche le difficoltà logistiche economiche e poco interesse anche per quelle aree e appunto tutta la retorica anche qui del nazionalismo e della vittoria mutilata delle nostre mire espansionistiche verso la Dalmazia per esempio la questione di fiume questioni che poi come sapete se pensiamo a poco più di cento anni fa ritorneranno in luogo e la situazione critica in Libia fa sì per esempio che riparte la riconquista subito dopo la prima guerra mondiale in periodo liberale con Giuseppe Volpi di Misurata che conoscete bene finanziere Veneto Venezia la famosa colpa Volpi ancora adesso a proposito di stereotipi e di immagini coloniali che viene data della striscia è rimasta ancora la colpa Volpi e lui appunto viene mandato al Giuseppe Volpi liberale e inizia la famosa riconquista anche se dicevamo per parte del territorio che è una conquista e nel 23 anche qui dopo guerra l'Etiocchia viene accotta dalla società delle nazioni una cosa anche che crea un certo imbarazzo all'Italia seppur aveva il problema della Libia però è un passaggio fondamentale anche per quello che sapete accade periodo successivo questo mi volevo illustrare il Doricaneso perché è anche qui un territorio che rimane in questa ambiguità tra possedimento appunto e colonia e parliamo di ripeto magari molti vanno lì in vacanza dimenticando il periodo almeno dal 1912 fino al 43 in cui sono state colonie italiane magari a Rodi si vedono ancora dei segni nel nostro passaggio ma molti lo ignorano che questo periodo storico e vi dicevo queste 14 14 isole che staranno lì in maniera molto molto marginale per per il periodo poi quando ci sarà una forte repressione nel 19 viene spesso dimenticato questo ma nelle memorie almeno subito dopo il secondo dopo guerra 1919 per molti di Ode Catissini era periodo molto triste come sarà un periodo molto triste anche il governo di Mario Lago dal 24 al 36 poi arriverà in maniera molto dura e anche con internamenti di nazionalisti diciamo greci che tentavano di continuare a combattere l'occupazione italiana di quei territori e qui le missioni archeologiche anche su questo c'è molto da riflettere come l'archeologia ha il tentativo di utilizzarla in maniera anche trionfalistica appunto vedere il ritrovamento della Libia per Dodean Neso sarà sicuramente importante delle vestigie dell'impero romano era esaltata appunto come dire eravamo lì all'epoca siamo tornati e portiamo appunto la civiltà è stato un lungo periodo in cui abbiamo interrotto la civilizzazione del Mediterraneo e del Mare Nostrum poi con la retorica fascista ancora di più ecco l'archeologia sarà l'epismania a Sabrata la stessa Cirene cosa succede? Sì sarà intesa ma non lo fanno entrare penso sì sì ci sto pensando io fino a 43 che poi questi possedimenti vi dicevo vi ho raccontato che li perdiamo però credo anche su questo territorio andrebbe molto da riflettere passiamo all'ultima fase cioè l'ultima fase chiamiamola del modo in cui abbiamo diviso questi tre grandi blocchi il colonialismo fascista le differenze anche nella continuità dicevo alcune cose hanno una loro continuità particolare l'idea imperiale pur esasperata in un periodo naturalmente fascista ma era già ben presente nei circoli appunto nazionalisti imperialisti nei circoli anche degli esploratori le varie istituzioni che nascono con l'idea anche di cercare di educare gli italiani ad essere un popolo con delle capacità imperiali e colonialiste come sono gli altri popoli che sono partiti prima e si tenta questo andiamo a vedere poi dopo quello diciamo tedesco che dopo la prima guerra mondiale perde le sue colonie il nostro è stato il più breve fondamentalmente e quindi bisogna recuperare questo e nell'immaginario fascista dicevamo l'idea imperiale è anche una grande retorica un grande fascino una grande spinta per trovare il consenso questo aspetto è presente anche nel non solo l'immaginario ma anche nel se andiamo a vedere appunto nel modo con il quale vengono presentate alcune icone diciamo dell'Italia dell'Italia dell'epoca e anche qua nazionalismo e imperialismo si competano ancora di più rispetto al periodo liberale sicuramente nell'ideologia fascista ecco questo uomo nuovo fascista che non solo va a conquistare a civilizzare ma rifonda l'impero eccetera è sicuramente in maniera più spinta come lo sarà poi con la famosa legislazione razziale di cui abbiamo accennato cosa accade in Colonia diciamo durante il periodo fascista e come questa fascistizzazione avviene prendiamo il caso della Somalia nonostante ripeto poi non è conquistata tutta alcune zone però la componente bianca sicuramente ha delle sue priorità in alcuni casi come dirà Montanelli abbiamo fatto così perché secondo gli usi locali si fa così il fatto di prendere una ragazzina e comprarla però poi su alcune cose imponiamo la nostra visione in particolare sullo sfruttamento e naturalmente anche sulle ragioni della bianchitudine rispetto alla legge e dicevamo la Somalia e utilizzo poi quelli che sono gli ascari già utilizzati per esempio quelli dell'eritea per la guerra contro i turchi in Libia anche se l'Italia rispetto ad altre ha utilizzato poi molte più truppe bianche rispetto a quelle indigene che le guerre coloniali come dice il famoso storico Rochard si fanno con truppe coloniali gli imperi utilizzano le truppe indigene e tentano anche quello che cerchiamo di fare anche noi in Libia di sottomettere alcune capiglie alcune tribù contro le altre e se andiamo a vedere anche di utilizzarle a seconda della convenienza perché quando pensiamo anche all'occupazione dei Balcani anche lì accade questo avvicinare i cetnici contro naturalmente gli altri gli altri etnici gli altri giusti e dicendo quindi con una modalità anche questa di parteggiare o armare alcune cabille per esempio in Libia contro le altre più ostili o che non si vogliono sottomettere pensiamo a De Vecchi in particolare nel Somalia che sarà prima del Dodebanneso in Somalia che sarà spietato anche contro le popolazioni locali l'uso per esempio della frusta delle scudisciate punizioni anche colturali il codice Zanardelli viene applicato in maniera molto puntuale nelle colonie più che nei nostri territori italiani e poi l'altro punto per esempio importante è questa idea della civilizzazione poi nel 29 con l'accordo con la Chiesa Cattolica e anche l'idea che già era partita in verità con l'impresa di Libia dove la Chiesa appoggia pienamente anche come propaganda ma lì soprattutto contro la Chiesa Copta Etiope e quindi molto favorevole e tra virgolette spinge molto anche per utilizzare territori somali come vi dicevo con quello che sarà il territorio ambito dall'Italia sia prefascista che fascista cioè l'Echiopia e vendicare Adua l'altro grande tema che ricorre in questo periodo e infatti l'Italia vanno in base a Etopia a 2 ottobre del 35 inizia annuncia la guerra e il giorno dopo partono i nostri soldati ripeto 500.000 uomini non sono pochi cioè che sono stati mobilitati anche a livello poi economico sarà un'impresa se ci pensiamo importante perché si teme la sconfitta come la temeva Giuditti quando ci sarà famoso episodio quando parleremo più anni di Sharashat nell'Oasi vicino Tripoli inizia a dire qui bisogna fare sul serio passiamo per le anni deportazioni e qui quando l'Etiopia resiste si passa all'uso all'uso dei gas per avere la meglio della resistenza della resistenza etiope e vi dissevo poi in particolare l'Iprite che dalla convenzione di Gineo nel 1925 erano già state vietate prima dell'Etiopia l'abbiamo già utilizzato in Libia l'abbiamo già utilizzato di queste queste bombe in maniera anche rudimentale in Libia e anche qui l'Italia ha questo triste climato i primi voli bombardamenti seppur rudimentali nella guerra contro nell'impresa di Libia primi bombardamenti aerei sui civili li abbiamo sperimentati noi in particolare due questo unitare italiano che teorizza per piegare la resistenza di altri popoli delle altre nazioni bisogna colpire i civili e da lì in poi sarà la guerra mondiale in parte ma poi le altre imprese in particolare quella di Etiopia darà quello che sarà poi la seconda guerra mondiale dove le vittime civili saranno superiori alle vittime naturalmente i soldati o pari e patta nella seconda guerra mondiale oggi sappiamo bene che i bombardamenti hanno tutt'altra e su questo su questo periodo su questo periodo c'è da dire che l'Etiopia è un altro punto di svolta ecco quando parliamo anche di questi temi e ripeto tenere sempre da conto il contesto geopolitico siamo abbiamo visto già nel 35 la Germania c'è Italia il nazionalsocialismo e con le famose inique sanzioni che abbiamo aggredito occupato bombardato e tutto quello che sapete un popolo facendo parte una nazione della società delle nazioni queste mire espansionistiche fa sì che l'Italia inizi ad avvicinarsi sempre di più alla Germania alla Germania nazista e anche se fondamentalmente poi le sanzioni non avranno grandi effetti gli altri imperi continueranno anche a finanziare e a vendere armi a tutti quanti compresi l'Italia e quindi c'è questo passaggio però importante un'Italia isolata che inizia ad avvicinarsi sempre di più alla Germania alla Germania fascista e dall'in poi ecco quando già nel 36 queste sanzioni non hanno avuto loro efficacia o sono sempre più debolite inizia la società internazionale a dare fondamentalmente nulla osta per la penetrazione verso l'interno dell'Etiopia e quindi la famosa penetrazione economica da ricordare ho ripetuto varie volte che l'Etova poi all'interno una sua resistenza continuerà anche nel periodo successivo anche il meno studiato periodo di Cavallero che va dopo l'attentato a Graziani dal 38 fino all'inizio della seconda guerra mondiale anche qui ritorno a un termine che poi utilizzeremo come ho detto operazione di polizia coloniale non chiamiamo controguerriglia o guerra contro la resistenza etiope ma operazioni di polizia di polizia coloniale e le motivi vado avanti Graziani poi sarà nominato appunto in Somalia per le preoperazioni e poi diventerà come sapete bene lui governatore di quei territori è interessante vedere il discorso che fa Mussolini agli domani della riterazione poi diciamo di quello che sarà l'occupazione la guerra contro l'Etiopia e troviamo tutto quello che è la retorica diciamo colonialista italiana ecco il destino ormai era quello l'Italia si deve muovere per diventare una grande potenza il popolo italiano ancora una volta navigatori santi poeti artisti via dicendo trasmigratori tutto navigatori via dicendo e quindi l'Etiopia era un paese che ci aspettava da 40 anni che non potevamo fare altro che prendercelo perché naturalmente era lì e poi il discorso che c'è ancora per esempio le ingiustizie perché ci sono le ingiustizie perché è rimasto ancora un paese che utilizza gli schiavi noi andiamo lì a liberare gli schiavi la missione naturalmente civizzatrice e poi qui la retorica del posto al sole il posto al sole che l'Italia ha diritto di avere e quindi su questo la vocazione imperiale viene ripadita in maniera molto chiara in questo discorso del 22 ottobre e qui le truppe e truppe di colore truppe di colore con tutto quello che che ne emerge divide truppera e utilizzo lì sì in maniera sempre più massiccia nonostante 500.000 mobilitati molte truppe di colore sia eritree e somale e l'odio sfrutta anche l'odio del nazionalismo eritreo contro quell'etiope ma anche truppe libiche in particolare lo vediamo domani quelli che vengono fuori da cosiddetti campi ragazzi che erano dei luoghi dove gli orfani dei resistenti libici venivano poi addestrati alla carriera militare e se andate per esempio dell'Alamain troverete anche la funzione del cimitero dei libici e molti erano questi orfani dei figli di coloro che sono morti nei campi di concentramento degli anni 30 che continueranno a fare solo la carriera militare e indottrinati a una fascistazione di fatto l'iconografia che vedete è molto importante perché vedete dove con la fondazione dell'impero 9 maggio 36 9 maggio 37 il primo anniversario e c'è un un omaggio c'è un omaggio davanti all'altare della patria che molti di loro hanno combattuto poi c'è tutta la questione che ritorna del dei reduci anche di loro che hanno ottenuto una pensione nonostante hanno combattuto tra virgolette per l'Italia fascista dell'epoca l'Italia monachico fascista non ne dichiamo mai anche in questo caso il ruolo di Savoia in queste operazioni anche diciamo di imperialismo di imperialismo che sono più che avallate e questo ripeto anche il discorso che poi ritorna nelle vicende legate a quelli che hanno cercato soprattutto i ricresso omoli di ottenere una pensione di guerra e poi la grande questione dei crimini cioè se andiamo a criticare che qui non a caso la mostra che vedremo è la violenza e il colonialismo italiano che la domanda è può esistere un colonialismo senza violenza molto difficile per tanti motivi e sicuramente se pensiamo a la guerra contro l'Etiopia ecco militari italiani più 87.000 ascari di sevo è un numero sicuramente importante di mobilitati più altri che arriveranno come polizia coloniale e la conquista con tutto quello che ne consegue pensiamo all'obelisco di Axum tutta la questione molti di voi l'avranno visto di fronte era lì è stato consegnato con tutta una serie di polemiche ma poi parleremo il circo massimo di fronte alla sede della FAO che non a caso all'epoca era il ministero delle colonie avete presente quel palazzone quello era il ministero delle colonie e di fronte non a caso c'era l'obelisco di Axum che noi prendiamo come obelisco stato per la parte degli Etipi riserviamo l'uso dei gas in particolare quando Badoglio sostituisce Rebono e sarà Mussolini da autorizzarlo i documenti che aveva già trovato Angelo Del Boca che venivano misconosciuti o non accettato questo discorso da Montanelli dicevo io ero lì non ho mai visto l'utilizzo dei gas poi quando appunto anche l'archivio dello Stato Maggiore ha confermato naturalmente questo fatto mai più che accertato c'è una documentazione importante tutte le bombe che abbiamo utilizzato contro la popolazione civile locale e lì Badoglio ha delle responsabilità enorme insieme a Graziani che sa lui che gestisce l'operazione più importante lui che entra ad Isabeba è il famoso discorso di Mussolini Badoglio telegrafa che è entrato ad Isabeba e abbiamo l'impero non mi soffermo poi su Graziani e vi dicevo anche con la fuga di Alessalassie qui un'icona importante chi è il Negus Etiope e Salassie è stato sicuramente importante anche nella memoria del popolo Etiope per tanti anni perché un fiero condottiero decide appunto un esilio volontario prima le palestine e poi va in Gran Bretagna quando rientra nel 41 importante perché cosa fa? fa sì che pochissimi italiani che erano lì subiscono delle ritorsioni da parte di Etiope farà in modo che non ci sia questa aggressione nei confronti dei italiani civili che hanno deciso di rimanere o che non sono stati presi prigionieri dagli inglesi per due motivi da una parte anche non voleva una spirale di violenza dall'altra anche perché gli italiani che sono lì effettivamente sanno fare alcune cose e servono per un nuovo stato sono ovvero specializzati sono appunto maestri in alcuni anche intellettuali gestiscono trasporti e commerci quindi fa comodo capire questa lungimiranza però con l'aspetto di non utilizzare rappresaglie contro gli italiani infatti accadono pochissimi episodi nonostante tutto quello che era accaduto che era accaduto in precedenza lui rientra il 5 maggio del 41 ed è la prima colonia che perdiamo la perdiamo però per effetto il comune d'Africa prima con tutto il comune d'Africa prima c'era stata anche la Somalia in poco tempo grazie appunto a una sconfitta militare su quei territori ed è adesso qui non ho messo l'immagine direi anche qua i profughi i primi profughi d'Africa che arrivano in Italia c'è la famosa cartolina ritorneremo l'idea di tornare anche la propaganda dell'epoca la 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 estremizza tantissimo nel periodo della Repubblica Sociale va beh qui abbiamo già parlato andiamo avanti e quanto quanto rimane della retorica dell'impero nell'immaginario collettivo e al punto di vista del razzismo quanto è rimasto quel tipo di razzismo nell'immaginare anche il nero pensiamo per esempio alle pubblicità oggi magari c'è più attenzione non è che sono per le politiche al corno però effettivamente se andiamo a vedere le pubblicità c'è un bellissimo storio che si chiama Gianluca e Gabrielli fece una mostra che si chiama l'Africa in giardino mettendo in vostra tutte le pubblicità i modi gli stereotipi del nero nel nostro immaginario collettivo in particolare anche della donna nera della donna nera che è una donna di facili costumi perché se andate a vedere anche negli archivi privati molti anche ex diciamo redici di quei territori hanno quasi tutti un'immagine ecco di queste donne come se siamo fuori se siamo nude ecco quell'emergenza di cui parlavamo dell'erotismo è rimasta molto compenetrata e anche nell'immaginario nell'immaginario successivo l'esotico erotico che appunto riemerge è anche dal fatto che nel periodo in particolare fascista se andiamo a prendere anche ne parlerete poi dei fumetti non sembra delle strisce dei fumetti se pensiamo anche appunto ad alcune canzoni dell'epoca lo stereotipo il fascino dell'esotico è sicuramente proponderante poi come dicevamo l'idea di spingerlo sempre più avanti finché non arriva la questione del meticciato perché queste donne non aspettano altro che l'italiano che le vada in pane l'idea di sportare braccia che come vedremo poi non avrà tutto questo consenso e non avrà nemmeno questo successo come si sperava cioè appena c'è la possibilità anche molti che vanno in quei territori o decidono di tornare o pensiamo alla Libia stare isolati nel deserto coltivare il deserto è molto più dura molti o vanno nelle grandi città o quando possono tentano di tornare indietro o di emigrare negli America o in paesi naturalmente tra virgolette più facili e anche più remunerativi e diciamo questo stereotipo fa parte anche di tutti gli strumenti istituzionali che vengono utilizzati ad iniziare anche dalla scuola a iniziare anche dalla scuola nell'immaginario collettivo è andato sì e chi è che partecipa perché questi poi stereotipi sono molto presenti e saranno ancora presenti secondo me alcune cose sono ancora presenti nella nostra società perché c'è un investimento economico che fa già l'Italia liberale di cui abbiamo detto ma il fascismo investe tantissimo questo quindi già negli anni venti vengono istituite le giornate coloniali cioè gli italiani devono essere fieri imperialisti come si faccia la retorica appunto di queste giornate in cui si fa vedere cos'è l'impero cosa vogliamo noi dalle colonie e nascono tante riviste l'azione coloniale è una di queste ma ce ne sono altre se vi capita di andare anche nell'Arioteca ne trovate diverse iniziative pubbliche che vengono naturalmente presentate come grandi parate diciamo nella retorica del regime il ministero per la stampa e la propaganda per esempio il 37 che viene il ministero della cultura popolare Conciano è capillare e lo stereotipo e l'idea imperiale sarà presente in maniera importante dicevamo del ruolo della scuola e dei cinegiornali anche della radio e qui vediamo si inizia la scuola se prendiamo alcuni quaderni in cui vengono presentati gli italiani fieri conquistatori dall'altra ecco i libici o gli etiopi i somali oppure ripeto ne parlerà sicuramente il collega quando vi farà vedere i fumetti l'idea appunto del giovane bianco italiano che istruisce l'idea appunto della della civiltà che però si ferma come abbiamo detto fino a un certo punto civiltà sì ma fino a un certo punto con l'idea poi di quello che sappiamo la parte economica lo dicevamo forse quella che avrebbe bisogno anche altre storie diciamo del nostro colonialismo forse la storia della prenazazione economica di quanto sia stato appunto l'investimento lo sfruttamento delle colonie forse è la parte meno studiata e per tanti motivi sulla Libia c'è forse solo un testo di Segre che racconta questi aspetti pochi richiami naturalmente con cui forse gli storici economici potrebbero sicuramente fare molto più che coloro che si sono occupati di aspetti militari ed aspetti politici e vi dicevamo gli sperimentiamo anche una serie di modelli anche perché ripeto sono territori sicuramente poveri dicevamo il deserto del Sahara e investiamo molto pensiamo anche l'istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze che ha cose incredibili per quanto riguarda anche la modalità in cui gli italiani riescono a fermare il deserto sperimentando degli arbusti che fanno sì che quando c'è il glibli non arrivi a invadere i terreni che pian piano vengono veramente strappati al deserto e quindi tentare piantagioni intensive in particolare in Somalia e in Etiopia e l'impatto che ha avuto anche delle culture locali questo magari è anche un tema di neocolonialismo quando pensiamo allo sfruttamento delle terre fertili anche lì per noi le terre più fertili anche nella prenotazione e l'aspetto importante di quando devono arrivare i coloni le terre più fertili per esempio dell'altopiano della cinerica verde deve essere sgombro da locali perché sono le terre migliori che devono essere date concesse ai coloni e anche su questo c'è un bel libro di Federico Cressi che chiama Desiderare la terra tra d'altri l'aspetto di incamerare territori e a livello demaniale cioè spropriarli a legittimi proprietari lo Stato che li prende poi li distribuisce quasi in comodato d'uso ai coloni che arrivano o ai grandi concessionari quindi sicuramente è importante anche capire la sproporzione da quanto è costata sull'Echiopia ci sono dei numeri importanti sia appunto di vista dell'investimento sui mezzi militari oltre che su uomini rispetto a territori che poi sarà sfruttato pochissimo siamo già nel 37 41 quei 4 5 anni diciamo lì veramente siamo stati veramente pochi forse era effettivamente il territorio più ricco dal punto di vista delle risorse naturali ripeto Libia ancora il petrolio sarà sfruttato solo a partire dagli anni 50 e quindi anche qua i privati che investono è pochissimo è un rischio molto alto grandi capitali industriali vanno più sulla speculazione oppure sugli armamenti piuttosto che un'impresa in un territorio che conosci poco a parte alcuni punto armatori ma poi alla fine grandi imprese veramente più di stato che privati che tentano delle imprese e poi prodotti coloniali sul mercato italiano qual è import export di solito gli italiani che stanno là chiedono quello che si produce qui con i scarpi i tessuti è difficile che si mettono un baraccano la vogliono vestire giustamente all'occidentale quindi anche questo fa sì che ci sia una disparità anche sulla bilancia commerciale si arrivano un po' di prodotti esotici latte le banane ma poca roba un po' di caffè ma anche quello in maniera molto limitata se andiamo a vedere i rapporti anche su questo ripeto forse e dove c'è molto da fare poi sicuramente con l'autarchia ci sarà questo e poi la corruzione la corruzione che appunto attanaglia molti di coloro che sono su quei territori militari che diventano presidenti i rapporti importanti di alcuni di questi con gli apparati ministeriali molti che sono lì sono burocrati che gestiscono appunto la colonia in maniera anche spesso inefficiente e inefficace per quanto riguarda tutto quello che viene appaltato per esempio pensiamo alle infrastrutture lo stereotipo abbiamo costruito strade chiese sicuramente però spesso con male che ritorna per fare tot chilometri se occorrevano tot soldi sicuramente di solito in colonia tutto non dico si radbucca ma quasi quindi anche lì sicuramente i risultati molti sprechi sono e anche le strade molte strade sono utilizzate e servono a controllare il territorio particolare in Libia per esempio tante strade nel deserto vengono utilizzate per far passare le camionette altrimenti impantare sul deserto e quindi rischi che la resistenza libica o etiope abbia buon gioco perché conosce il territorio sa muoversi dentro diciamo la foresta o nel deserto e quindi può avere la mente quindi anche alcune diciamo strade che vengono costruite servono per un controllo del territorio e poi vabbè l'impero del lavoro come vi dicevo poi viene clamorosamente smentito dal fatto appunto che questa comunitazione demografica famosi 20.000 che ogni anno devono partire dal 38 in poi molti di questi saranno inviati ecco grazie voi lo vedremo domani proprio a una modalità quasi di concedere territori ai coloni con tutta una serie di aspetti l'altra grande questione dell'apartheid dicevo del razzismo beh importante ricordarlo appunto le leggi razziali qui possiamo le leggi razziste contro la popolazione locale in particolare per eliminare la questione del meticciato e tutta la differenziazione che c'è tra italiani e africani cioè l'Isabeba verrà ricostruita con il quartiere per i bianchi il quartiere dei neri solo alcune strade possono essere attraversate dai neri solo per andare nelle zone dove si produce perché servono d'opera la panchina per i bianchi la panchina dei neri l'autobus per i bianchi coperto una specie di camionetta aperta l'autobus per i neri il cinema differenziato quindi con una forma ripeto di apartheid che inizia appunto con questa arbitrio totale nei confronti della popolazione indice stesso discorso vale per naturalmente per le scuole e una piccola differenza ci sarà in Libia in particolare con le province a nord che verranno poi assimilate dentro il territorio metropolitano se guardate alcune cartine vorranno vedere che le province più a nord della Libia saranno più inglobate quello che sarà chiamato il territorio metropolitano però rimarranno sempre fondamentalmente dei cittadini di serie B diciamo una cittadinanza elargita ma non poi con pienamente pienamente non pienamente usufruite e consumate vi dicevo poi l'obbligatorietà della Libia e qui vi dicevo Montanelli ma forse già lo conoscete perché penso che siano già molto lunghi quello che diceva della famosa ragazzina se andate su YouTube comunque vedete la sua intervista che rilascia e continua la cosa grave che nonostante siano passati tanti anni lui fino agli anni sessanta continua a dire fondamentalmente cioè non rendersi conto diciamo quello che ha fatto che lì si può fare così da noi non lo avremmo fatto ma siccome lì gli usi lo prevedono potevo comportarmi in maniera diciamo quasi da pedofilo e quindi prende questa ragazzina che non si è mai saputo diciamo lui diceva 12 anni forse 14 comunque questo importante questa mentalità che non si chiude col periodo diciamo diciamo colunale e qui vabbè dicevo la questione della della legge è da notare che la legge è stata abrogata nel 1947 quindi poi fondamentalmente dopo anche la firma del trattato di pace del 10 febbraio di quell'anno velocemente la perdita del nostro impero dicevamo nel gennaio del 43 poi perdiamo anche anche la Libia la conferenza di Londra nonostante De Gasperi tenti fino all'ultimo di mantenere almeno la Tripolitania ma ciò non avviene vabbè l'afis di cui abbiamo già parlato e quindi come dire spero di non avervi annoiato con questa lunga lunga fresca della nostra storia coloniale io ritengo appunto che se si riesce non abbiamo il tempo di parlare del periodo successivo diciamo del post-colonial che va ripeto molto di moda ma penso che forse un approccio come che ho cercato di presentare una storia dell'Italia coloniale che parte dalle sue radici che tocca alcune aspetti alcune caratteristiche potrebbe essere forse un buon modo anche per giocare anche sul discorso dell'attualità e di quello che è accaduto all'epoca e delle tante ammesie che sono ancora ben presenti dei tanti occhi e delle tante le questioni che ancora diciamo sono aperte e ripeto anche tanti periodi e anche pezzi di storia coloniale che devono ancora essere studiati e qui speriamo di dare il nostro contributo come storici beh vi ringrazio allora no io chiederei intanto se c'è qualche domanda siamo partiti anche in ritardo posso prima verificare se ce ne sono fra i colleghi collegati online prego non ci sono domande ma c'è la richiesta di avere le slide sì sì le lascio le lascio qui e chiunque magari le può utilizzare le mandiamo anche non ti preoccupare non so se sono state efficaci sono andato un po' veloce e chiedo scusa ma abbiamo tanta carne a fuoco qui c'erano delle domande magari allora iniziamo da qui ho visto quello di Wuming che è molto interessante però italiano il primo siccome mi ricordo sangue giusto cioè sangue giusto assolutamente possiamo fare un merito poi magari sì magari un po' ve lo manco ma penso a a Maza Magister sulle donne etiopi che hanno resistito cioè questa bellissimo libro adesso mi sfugge il nome quando eravamo re mi sembra che sia il titolo in italiano una traduzione un po' strana che ricorda poi c'è la la linea del colore della Iga Vascego poi c'è appunto sangue giusto aspetta lei si chiama la 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 poi c'è un altro stanno venendo fuori un po' di libri interessanti come giustamente dicevate voi anche scritti soprattutto da da donne poi c'è naturalmente anche qua se riprendete con certo successo il secondo libro anche di Scurati su M dove affronta anche che è un libro che utilizza gioca su documentazione e romanzo in maniera anche ci si può discutere però su alcuni passaggi è anche interessante e può essere può essere naturalmente ripreso però poi vi mando una piccola bibliografia anche su quelli che possono essere dei testi tra virgolette romanzi letteratura che secondo me possono aiutare per per dei percorsi adesso a mente l'avevo preparato ma non siamo grazie però posso intervenire l'ultimo incontro del 7 ottobre sarà con una docente di letteratura postcoloniale Caterina Romeo dimenticata più di me ci darà tutto bene tanto più se ci sono percorsi didattici guarda assolutamente quello che dicevo qualcosa si sta muovendo anche nell'ambito letterario siamo un po' carenti nell'ambito cinematografico per esempio perché se pensiamo al film Leone del deserto che è un polpettone del 1881 ma di fatto è ancora censurato per vilipendio le forze armate censurato nell'epoca ancora adesso nonostante il casto eccezionale Anthony Grini Irene Papas Raffallone cioè Accad è un po' un polpettone con anche alcuni passaggi discutibili dal punto di vista della storia militare però interessante ed è sicuramente un film si può anche fare oppure quando eravamo Verriere un documentario che trovate forse anche su Youtube che fa i conti anche con le questioni postcoloniali su proprio legato al monumento ad affile di questi diciamo figli di seconda terza generazione che chiedono conto perché no si faccia un monumento a un momento a Graziani quindi come dire poi si fa figli e lo stesso cielo assolutamente ma dicevamo poi su questo punto come diceva non voglio anticipare quello che vi dirà anche l'ultimo incontro che è sulla letteratura quindi penso che anche su questi su altre questioni legate più a però sicuramente ecco facciamo un po' fatica se se devo darvi anche qua delle indicazioni di film sulla storia al nostro comunismo sicuramente abbiamo più difficoltà se pensiamo al mandolino del orale oppure al Mediterraneo su quelle isole dove lo stereotipo del Land Rover italiano del militare che sta lì quasi per caso e viene visto cioè su questo lo stereotipo poi è chiaro sono film sono romanzi ognuno ha diciamo dicevamo poi la storia è molto più complessa non possiamo sempre fare questo doppio binario bravi italiani o tutti criminali dentro ci sono anche dei rapporti di una società coloniale è vero che non tutti sono costretti a non riconoscere i figli però c'è qualcuno che si innamora e tenta anche di riportarsi la compagna e riconoscere i figli molto complicato molto difficile contro le leggi dell'epoca e vengono anche puniti per questo come dire diciamo nella complessità anche nelle storie le pieghe di storie anche molto tristi c'è anche questo ricordo ancora che gli italiani che poi sono rimasti lì non sono pochi cioè sia per esempio penso in Etiopia in Eritrea e anche in Libia poi cacciati da Gheddafi nel 1970 per quanto riguarda la Libia poi vanno via per tanti motivi già negli anni precedenti però anche quello denota ecco una società coloniale che tutto quello che abbiamo detto con le logiche del colonizzato il colonizzatore che ha sicuramente tutta una serie di utili leggi nel periodo in cui fino almeno quando non perdiamo ufficialmente le colonie però una società coloniale nelle sue complessità esiste e va ne va ne va tenuto conto anche nel raccontare con questa storia dell'Italia coloniale mi chiedevo Libia Somalia di Trenge c'è stato un momento in cui ufficialmente Italia perché insomma quella era fascista ma siamo repubblicani fascisti ma siamo sempre in Italia ha chiesto diciamo i conti mi chiede i conti con i crimini con i crimini coloniali allora partiamo da quello che succede con l'Etiopia cioè nell'immediato secondo dopoguerra c'è la commissione per i crimini di guerra di Londra a cui tutti i paesi invasi o che hanno subito crimini da parte dell'Italia fascista può chiedere l'estradizione di presunti criminali per poter celebrare il processo tutte le nazioni chiedono una serie diciamo viste la Jugoslavia è quella che ne richiede di più la Roat ad altri a Pizzopiroli ad altri che si sono macchiati di crimini oppure che hanno diciamo bene o male occupato posizione di rilievo anche nei territori della provincia di Ljubljana o nel governatorato del Montenegro e via dicendo la stessa Etiopia lo chiedono anche gli Stati Uniti l'Inghilterra più per i crimini commessi nei campi per pigiogneri di guerra i loro soldati in tanti casi l'Unione Sovietica per i campi di concentramento costruiti cioè non è solo le 100 carrette di ghiaccio 15 campi di concentramento costruiti nelle nostre retrovie del Don gran parte anche nelle zone attuali dell'Ucraina che consegniamo ai tedeschi però nell'immaginario collettivo eravamo lì con le scarpe di cartone però siamo arrivati lì e vabbè parte questo e l'Etiopia è una delle nazioni che chiede una lista di criminali ne chiede 12 in verità poi alla fine tra cui anche Badoglio Graziani poi ne riduce a due dice vabbè non potete darci gli altri nel 47 rifà una lista ne chiede almeno due Badoglio Graziani questi due dobbiamo processare cosa accade? Che sarà l'Inghilterra a bloccare le richieste Etiopia perché se una nazione colonizzata chiede per dei crimini di guerra c'è il libro dei processi presunti criminali per crimini fatti in Colonia immaginiamoci gli altri e quindi blocca fondamentalmente con l'assenso anche e non se ne fa nulla per esempio per la questione dell'Itiopia pensiamo invece alla Libia la Libia anche lì ci sarà la costruzione di diciamo l'ospedale Andreotti si mette De Gasper aveva tentato di mantenere la Tripolitania quando poi ci sarà Re Idris El Senussi periodo della monarchia poi arriva Gheddafi oltre la cacciata degli italiani nel 1970 poi magari domani ne parleremo in mani approfondita però la vera svolta si è avuto con il trattato di amicizia trattato di amicizia che viene firmato da Berlusconi nel 2009 però era un trattato che diciamo era in piedi da già gli anni 90 già alcune cose hanno state predisposte nel periodo precedente degli anni 80 poi c'è stato anche governi successivi da Prodi a D'Alema per citarne alcuni lo stesso Lambertodini si spende molto e soprattutto si spende l'Eni e le imprese italiane perché era un giro una partita di giro che la strada l'autostrada l'avano costruire la costruivano le imprese italiane Tripoli è una città che consumava più cemento quasi Gettafi che investe dalla Juventus alla Fiat ai soldi che manda a parte le cose folcloristiche finanzia varie campagne elettorali e lì noi chiediamo scusa fondamentalmente Berlusconi che riporta da Venere ci sono tutta una serie di passaggi interessanti in quel pedo però dietro c'è l'aspetto economico più che l'idea di fare i conti con quel passaggio e quindi la situazione più o meno è questa con quello che sappiamo quello che è successo con il Murillo chiudo disegno invece per quanto riguarda un'amministrazione fiduciaria della Sommaglia della Sommaglia della Sessanta in cui c'è la modalità che è sempre stata un fallimento l'amministrazione fiduciaria della Sommaglia è stato un fallimento sia per le logiche che giustamente che ci stai ricordando ma appunto perché forse anche lì gli danno questo contentino nel 50 se uno pensa che chi è che deve andare poi lì Gugliel Monasi uno che sta nella lista dei criminali di guerra infatti quando vedono questi no quello anche se è stato forse il meno criminale rispetto agli altri però alla fine infatti al festival di filosofia a Modena che ci sarà sabato e domenica faremo un percorso perché Gugliel Monasi è dedicata una statua al centro di Modena che ripeto poi è stato effettivamente diciamo dal punto di vista militare abbastanza portante eccetera forse uno di quelli che credeva più nel dialogo rispetto a lanciare le bombe sicuramente però con l'elogio sappiamo quando infatti chiamano lui e nel sala sedice va bene tutto ma sta nella lista di quelli che abbiamo richiesto è il quinto in vista ci sembra un po' troppo che il mandate insomma anche per le questioni legate naturalmente a quello che la sua maglia aveva rappresentato in quel cerchiamento e quindi il mandato uno che si era comportato in questo modo forse non è il caso anche lì appunto svanisce abortisce fin dall'inizio con l'indicazione di nasi l'idea di voltare pagine ma era anche complicato perché i guadri funzionari del ministero degli esteri eccetera erano ancora ex colonialisti quindi sarebbe stato sì dopo l'area nel 160 quando si è arrivato il ministero importante di tutto non lascia il mio sì ho solo una curiosità allora nel 1860 l'amatore Rubattino affitta per modo di dire a Garibaldi due navi che era da conquistare per fare l'Italia diciamo 22 anni dopo acquista acquista la maia di Assaf da più sinistra certo quello che dicevamo questo aspetto risorgimentale di questa attualità sì però ecco è lì l'idea risorgimentale certo di Rubattino bene io grazie ringrazio tutti anche grazie grazie vi aspettiamo domani allora buona serata a tutti grazie a domani grazie davvero arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti